Rientriamo in onda qui su RBA, come dicevo passiamo allo spazio di primo piano, lo facciamo con una intervista, abbiamo raggiunto per commentare alcuni dati in generale il tema degli infortuni e dei morti sul lavoro, abbiamo raggiunto Emilio De Andri, il vicepresidente di ANMI, l'associazione che si occupa proprio di chi subisce infortuni sul lavoro e anche chi rimane interessato alle sue conseguenze Per molto tempo Emilio De Andri, buongiorno, benvenuto su Cominciamo Bene Buongiorno a voi Grazie mille per il tempo a disposizione, noi partiamo da alcuni dati che abbiamo in parte già commentato qualche giorno fa, sono stati diffusi dall'INAIL, non stiamo a ragionarci troppo nel dettaglio su percentuali più o meno però insomma emerge che nei primi mesi del 2022 rispetto al 2021 si nota un grande aumento degli infortuni sul lavoro, una diminuzione invece di quelli mortali così a prima vista sembrerebbe un po' un effetto della pandemia, cioè la pandemia si sta facendo sentire meno, sta causando forse meno vittime, meno contagiate anche sul mondo del lavoro e questo porta più infortuni perché forse si lavora di più, le attività sono più aperte ma forse anche meno vittime causate dal contagio, lo possiamo all'incirca spiegare così questo dato? Beh il dato sicuramente ci lascia un po' lavare in bocca perché abbiamo avuto un aumento importante delle marchie professionali e lo stesso delle denunce di infortuni cioè parliamo di cifre veramente da guerra, quindi parliamo di più 41% quindi a livello nazionale, è vero c'è stato un calo delle morti sul lavoro ma sono comunque tre morti al giorno e in un giorno ci sono state sei vittime a livello nazionale e non riguarda solo il nord o solo il sud è dal nord al sud delle penisole e questo ci deve lasciare tutti quanti pensare, io qualche giorno fa ho denunciato l'ennesima morte sul territorio ionico perché ancora una volta ho morto nella zona di Manduria per un taglio alla femorale di un altro e un altro che si è ribaltato in agricoltura si continua ad avere degli infortuni come 50 anni fa, cioè questo non è più accettabile, cioè noi ci aspettavamo in un piano del governo che di qui a qualche settimana andiamo alle orme, è un piano che dove al primo posto metteva la sicurezza nei luoghi di lavoro invece non un cenno su questo e questo ci lascia davvero preoccupati perché i dati sono davvero agghiaccianti e si parla del 6% del PIL nazionale, altro che manovra, bastava fare un calcolo come ogni papà di famiglia eliminare il 10% di quel PIL e sarebbe una cifra esorbitante, è una cosa davvero che ci lascia la mano in bocca e per non parlare delle malattie professionali che spesso vengono dimenticate, perché vengono dimenticate? perché non c'è l'effetto violento e quindi nessuno ne parla, ma c'è un aumento delle malattie professionali del 6,8%, cioè che continuiamo ad avere molti più lavoro, denunce di infortuni e denunce di malattie professionali e questa cosa non è più accettabile. Infatti è un dubbio che mi veniva proprio nel leggere questi dati che è vero che sono molto importanti i confronti di anno in anno guardare le percentuali di anno in anno ci raccontano una storia, però credo che valgano fino a un certo punto cioè ha molto senso ragionare sulla percentuale di vittime più o meno rispetto ad un anno quando comunque il calcolo che abbiamo per questi 6 mesi va a 569 morti che è un numero agghiacciante che forse non ci aspettiamo nemmeno forse al di là del confronto tra i vari anni, tra i vari periodi conviene fare anche un ragionamento in assoluto su un numero di vittime che potrebbe essere in calo ma rimane comunque troppo alto Assolutamente sì, noi parliamo comunque di tre vittime al giorno cioè noi tutto questo non è possibile poi se noi ci aggiungiamo la gente che muore dopo una malattia professionale allora i dati sono davvero importanti cioè alla fine bisogna trovare una soluzione efficace affinché uno, ogni lavoratore possa tornare con le proprie gambe alle loro famiglie perché in un paese civile questo deve essere il punto cruciale nel mondo del lavoro due, chiediamo controlli serrati cioè controlli davvero importanti per tutte le aziende perché oggi le aziende vengono controllate una volta ogni 30 anni se va bene Mi ha un po' anticipato in realtà perché volevo appunto farle questa domanda critica quale potevano essere le misure, le soluzioni anche soltanto gli approcci, le politiche in generale che insomma si potrebbero mettere in campo forse si dovrebbero mettere in campo Allora noi come anni mi ricordo abbiamo fatto abbiamo confrontato i dati antecedenti al decreto 81 quindi parliamo del 2007 nel 2007 ci sono stati 1200 morti nel 2021 1341 cioè allora il decreto 81 ha funzionato o non ha funzionato? tutti quanti abbiamo venduto il decreto 81 come la rinascita sulla sicurezza del lavoro ma poi alla fine non è avvenuto sicuramente è una legge fatta bene ma se non mettiamo i giusti controlli è che non vengono rispettate non vengono rispettate e i corsi formativi sulla sicurezza devono essere fatti in maniera professionale e non come un obbligo e basta ma deve essere veramente una cosa sentita sia da parte dell'azienda e sia da parte dei lavoratori noi qui abbiamo messo in campo in maniera molto forte a nostre spese la scuola della testimonianza che andiamo all'interno di chi ce lo permette chiaramente perché non tutte le aziende lo permettono le aziende che ci invitano a partecipare nei loro corsi formativi noi mettiamo in campo i ragazzi che hanno subito l'infortunio non a raccontare la favoletta di Capulcetto Rosso ma a raccontare la loro storia dei propri infortuni dei propri incidenti per far sì che quello che è successo a noi non succeda ad altri chiaro e insomma forse anche quindi cominciare molto presto con l'informazione su questo senso può essere una delle tante risposte un altro tema che ha un po' anticipato nelle sue risposte ma su quale vorrei provare ad andare un po' più a fondo è appunto la scarsa attenzione che si vede su questo tema lo vedo un tema assente insomma proprio in termini di parcondice da qualsiasi discorso politico da qualsiasi candidato non mi sembra di aver visto nessuna dichiarazione da nessuno dei candidati rispetto a questo tema ma anche a livello di informazione io ho provato a raccogliere materiale appunto per prepararmi a questa intervista e ho fatto molta fatica ho trovato poca attenzione pochi approfondimenti poche riflessioni anche al di fuori del mondo della politica su questo tema come mai non riesce a far breccia ci stiamo forse abituando anche se è una pessima parola il rischio è proprio questo ci si continua ad abituare le morti sul lavoro è come se fosse una normalità noi ci aspettavamo in un programma di governo che non guarda destra, sinistra, sopra, sotto ma una parte politica che avrebbe scritto due righe sulla sicurezza dei luoghi di lavoro non c'è stata perché probabilmente è una patata così bollente che nessuno si vuole assumere gli oneri di risolvere questo problema cioè nessuno si vuole mettere contro le aziende facendo norme restringenti per chi evade la sicurezza dei luoghi di lavoro fare delle norme non va cioè guarda in tribunale possiamo fare quello che vogliamo ma bisogna evitare le morti sul lavoro evitare che un ragazzo torni a casa senza un arto cioè perché lì non muore solamente il lavoratore ma muore tutto il luogo familiare e quando si hanno infortuni importanti davvero importanti il rischio che la famiglia si perde e quindi questo lavoratore che ha subito un'infortuna importante resta solo perché anche la disabilità non è facile da accettare è una disabilità importante anzi anzi poi magari pregiudica anzi molto spesso pregiudica anche il continuamento di un lavoro su quello stesso posto anche altrove quindi è assolutamente una ferita che rimane aperta se noi guardiamo poi l'idea delle martie professionali che io qualche giorno fa ho chiamato morti di serie B perché questi morti non li guarda nessuno perché sono poco conosciuti perché purtroppo avvengono dopo una lunga latenza specie coloro che hanno contratto le malattie di amianto noi da anni stiamo dicendo di riaprire i termini benefici dell'amianto per chi ha lavorato con questi tipi cancerogene e ancora oggi nessun governo prende atto di questa cosa e nel cassetto del linea ci sono 40 miliardi non 100-200 milioni 40 miliardi che dovrebbero essere dati delle aziende da impianti con il segreto 81 ai lavoratori a chi ha subito un'infortunio cioè ma perché aspettare che la gente si ammala e muore quando invece dovrebbe far uscire subito da quelle fabbriche da quelle aziende quei lavoratori chiaro chiaro sì questa è una domanda alla quale purtroppo non abbiamo non abbiamo una risposta e la poniamo però insomma non abbiamo nemmeno una risposta stiamo cercando di sollevare il problema a livello politico ma anche questa volta nessuna porta politica parla di sicurezza dei luoghi di lavoro nessuna parte politica parla delle tipiche cancerogene come quella dell'amianzo no esatto è un discorso abbastanza appunto assente da questo dibattito noi purtroppo andiamo incontro ai tempi radiofonici nel frattempo perciò ci dobbiamo salutare prima però volevo io le volevo dire una cosa ho visto i dati del Piemonte e i dati del Piemonte sono ancora più freddi ok io vado a vedere le denunce di infortunio in Piemonte se a livello nazionale siamo più 41 qui siamo più 48,8 quindi quasi 49 cioè e tutte le città è tra Torino in testa più 60% chiaro c'è qualcosa che non sta funzionando a livello nazionale sulle sicuretze dei luoghi di lavoro sì esatto esatto sì anche insomma lo sguardo tra le regioni sarebbe molto molto interessante da approfondire magari ne avremo ne avremo occasione però appunto grazie per questa per questa precisazione ancora peggiore purtroppo il dato riguardo al Piemonte prima di salutarci volevo solo indirizzare magari gli ascoltatori all'Anmil nel caso appunto non fosse non fosse conosciuta parliamo dell'Associazione Nazionale Fra Lavoratori Mutilati invalidi del lavoro ad esempio si può dare un'occhiata al sito che è molto attivo carico di approfondimenti e riflessioni su questo tema e anche appunto un'operazione di supporto a chi si trova in questa condizione e appunto noi abbiamo appena parlato con il Vice Presidente di Anmil Emidio De Andri lo ringraziamo molto e ci diamo appuntamento alla prossima occasione grazie mille grazie a voi e buona giornata grazie a voi